Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale di Mani d'Oro. Questa che vedete tra le mie mani è una stellina molto carina, semplice e veloce da fare anche questa come la precedente. Si realizza appunto in pochissimo tempo e quindi potete realizzarne veramente tante e impreziosire così i vostri pacchetti regali oppure le decorazioni natalizie per la vostra casa. Io le ho realizzate in cotone, quindi va benissimo cotone di qualsiasi spessore, di qualsiasi tipo, quindi magari anche abbinato un filato o tinta unita con un lurex renderà ancora più preziosa la vostra realizzazione. Vediamo come fare. Con un filato a vostra scelta facciamo un anello magico. Io lavoro con un uncinetto dell'uno e mezzo così la mia lavorazione è ancora più rigida, quindi se volete una lavorazione un po' più rigida, quindi non volete ulteriormente inamidarla, potete realizzarla con un uncinetto più piccolo, poi dipende anche dalla vostra mano e dal modo di lavorare. Quindi realizzato il cerchio magico facciamo 3 catenelle, quindi la prima l'ho già fatta, all'interno facciamo altre 2 maglie alte, quindi la prima sostituta dalle 3 catenelle e ne faccio altre 2, poi faccio una catenella e realizzo un altro gruppo di 3 maglie alte, questo per un totale di 5, quindi avremo 5 gruppi da 3 maglie alte separate da una catenella. Quindi realizzate le ultime 3 maglie alte, faccio una catenella, stringo il capietto iniziale, nel filo corto e mi chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia alta che io ho realizzato, in questo caso le 3 catenelle. Ora faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, la prima mi serve per girare, quindi nella quarta catenella faccio una maglia bassa, nella successiva faccio una mezza maglia alta, nella successiva ancora faccio una maglia alta e nell'ultima faccio una doppia maglia alta, poi mi chiudo con una maglia bassissima nella catenella che separa il gruppo di 3 maglie alte, quindi con una maglia bassissima entro all'interno della catenella e mi chiudo con una maglia bassissima. E questo è il primo triangolino, la prima nostra punta. Poi riprendo a fare le 5 catenelle e rinizio con una maglia bassissima, una mezza maglia alta, una maglia alta e una doppia maglia alta. mi chiudo sempre con una maglia bassissima all'interno della catenella che separa il gruppo di 3 maglie alte e proseguo a fare le altre 3 punte, quindi le 5 catenelle, poi una maglia bassa una mezza maglia alta, una maglia alta, una doppia maglia alta. Mi chiudo con una maglia bassissima nella catenella che separa il gruppo di 3 maglie alte e riprendo a rifare i miei spicchi. Una volta finita l'ultima punta, mi chiudo a maglia bassissima nella prima maglia che ho realizzato, quindi dove sono partite appunto le altre catenelle e mi muovo a maglia bassissima da quest'altra punta, quindi noi siamo qua e faccio una maglia, allora, sì, qua abbiamo chiuso a maglia bassissima poi nella doppia maglia alta facciamo una maglia bassa, in pratica dobbiamo rifinire tutte le punte a maglia bassa quindi entro nella costina, faccio una maglia bassa, una maglia bassa nella successiva due, tre e qua c'è la maglia bassa nella catenella che abbiamo utilizzato per girare faccio una maglia bassa, una catenella e un'altra maglia bassa e poi riprendo a fare tutte le mie maglie basse fino ad arrivare al punto di partenza, quindi in tutte le punte faccio le mie maglie basse, in modo tale da rifinire la nostra stellina arrivata alla fine qui dove ho fatto la maglia bassissima rifaccio la mia maglia bassissima e ricomincio a rifare le maglie basse, quindi contorno tutta la mia punta di maglie basse arrivati nella catenella che usavamo per girare facciamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa quindi terminate con le maglie basse, mi chiudo con una maglia bassissima sempre sotto la maglia bassissima, taglio il filo, lo sfilo e ricreo l'asola di chiusura quindi prendo un ago, anche con l'uncinetto può andar bene è proprio velocissima da fare, in 5 minuti avete realizzato la stellina poi dipende anche dal filato, più grosso sarà il filato e più grande la stellina ovviamente abbinando anche l'uncinetto quindi entro nella mia asola, mi tengo morbida entro nella metà dell'asola precedente in questa maniera ho ricreato, vedete, la mia chiusura la mia asola non si nota praticamente niente e poi nasconde i fili all'interno della lavorazione in modo tale che non si sfilacci ovviamente fate la stessa cosa anche con il filo del cerchio magico non tagliatelo perché altrimenti si è disfattuto il lavoro e quindi abbiamo fatto tanto lavoro per niente una volta terminata questa è la stellina gialla, molto carina simpatica, velocissima e spero che anche quest'altro video vi sia piaciuto mettete un mi piace se vi è piaciuto e un commento sotto il video se gradite commentare io come sempre vi aspetto al prossimo tutorial ciao